Spari contro un portavalori a Pesaro davanti a un negozio di elettronica ferito all'autista del mezzo in fuga a mani vuote e i tre banditi puntavano all'incasso da 20.000 euro del Black Friday. Il processo di inno sento segale si svolgerà con rito ordinario il 13 febbraio respinta dal GUP la richiesta di rito abbreviato, la madre di Pamela soddisfatta di com'è andata ma non accetto le sue scuse, sono una presa in giro. Ordigno bellico rinvenuto agli archi il 20 gennaio scatta l'evacuazione per 12.000 persone, zona rossa off limits per consentire la bonifica, chiusi alberghi, esercizi commerciali e la stazione. Tagliani e Camerino per l'inaugurazione dell'anno accademico, il presidente del Parlamento europeo in zona rossa, risorse per 2 miliardi, bisogna accelerare la ricostruzione soprattutto nelle marche. Vince il derby al Benelli sulla capolista con un secco 3-0, vista seconda mentre cade il Fano, oggi ultimo, pari della Samb. Buonasera e bentornati a questa nuova edizione di ATG Mark, come sempre vi ricordo che siamo in onda anche in streaming sul nostro portale www.tvmarket.it e sulla nostra pagina Facebook. Apriamo questa edizione come avete visto anche dai titoli con una notizia che arriva da Pesaro dove questa mattina intorno alle 13 si è verificata una sparatoria in strada per mano di tre banditi, probabilmente di nazionalità italiana. È accaduto davanti a un negozio di elettronica in via Gagarin in zona Torraccia, bersaglio dei malviventi, appunto un furgone portavalori che andava a prelevare l'incasso. Circa 20 mila euro in contanti incassati durante il weekend del break Friday. Il comando sarebbe entrato in azione quando l'ha detto alla cassa continua aveva però già messo nel furgone il denaro prelevato. A rifiuto di aprire e consegnare loro i soldi uno dei banditi ha preso ammazzate il furgone e poi i colpi di arma da fuoco. Il vigilante è rimasto ferito ma in modo non grave. Secondo la squadra mobile di Pesaro si tratta di un piano studiato, le indagini sono tuttora in corso e sono stati istituiti posti di blocco in tutta la zona. Altri ladri in azione. Nell'azienda di materiali Edili Simonetti a Marino del Tronto di Ascoli la banda con un furgone ha sfondato la porta d'ingresso al capannone per poi entrare e rubare piedi di porco, mazze ed altri arnesi da scasso che potrebbero essere utilizzati per altri colpi. Queste sono le immagini che arrivano dalle telecamere di videosorveglianza. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e gli agenti della squadra mobile di Ascoli ma i Valmiventi avevano già fatto perdere le loro tracce. Ovviamente sono ancora aperte le indagini. Ci spostiamo a Macerata. Innocente Osegale verrà condannato e non godrà di alcuno sconto di pena. Il giudice dell'udienza preliminare di Macerata questa mattina ha rispinto la richiesta a diritto abbreviato avanzata dalla difesa. Facciamo il punto di questa giornata con il servizio di Roberto Properzi. E' iniziata così la mattinata davanti al Tribunale di Macerata nella prima udienza preliminare del processo che vede unico imputato Innocento Osegale per la morte della giovane romana Pamela Mastropietro. Contestazioni agli avvocati difensori e al sindaco della città Romano Carancini costituitosi insieme al proprietario dell'immobile di via Spalato parte civile. Il giudice Claudio Bonifazi ha rigettato dunque tutte le eccezioni fatte dalla difesa, ha colto le parti civili e tutti i capi di imputazione per Osegale. E quindi il processo si celebrerà in corte d'assise con il rito ordinario a partire dal prossimo 13 febbraio. E quindi adesso non possiamo che andare avanti sperando in una condanna esemplare che non è solo per Pamela ma come ho detto questa mattina è per tutta la civiltà che oggi si è costituita in processo contro la barbarie. Il processo dunque partirà nel 2019 e verterà sulla colpevolezza o no di Osegale. Pamela è morta per overdose o per le coltellate di Innocent. Questo sarà il vero oggetto del processo, qui si discuterà realmente dinanzi alla corte d'assise di Macerata. Il collega della difesa mette in risalto anche una regola procedurale. Gli accertamenti tecnici, quelli fondamentali che sono poi confluiti nella relazione dei tecnici del pubblico ministero su cui si basa tutto l'impianto accusatorio sono stati fatti senza avvisare l'indagato. All'epoca era detenuto presso la casa del contrario di Ancona, erroneamente a nostro avviso si è proceduto con gli avvisi all'avvocato all'epoca dello Segale a mezzo PEC presso lo studio professionale. A sorpresa ha preso anche la parola all'imputato che davanti alla famiglia al completo di Pamela ha chiesto scusa e una seconda possibilità. Mi sa molto di presa in giro per cui scuse rimandate al mittente. La seconda possibilità vorrei che fosse data ad altre persone che hanno avuto la fortuna di non fare la fine di Pamela. Ricostruiamo adesso la giornata anche attraverso le voci delle tante persone che hanno appunto partecipato all'udenza. Vediamo. Credo che sia una cosa che ci ha fatto piacere perché volevamo che venisse riconosciuta il danno che questa città e questo territorio ha avuto. Aspettiamo con impazienza la giustizia su questo fatto. Ritornare tutti al rispetto della legalità non abbiamo bisogno di ultra, non abbiamo bisogno di conflitti ulteriori e devo dire che va rispettata la città perché la città ha subito un dolore fortissimo. Mi ricresce un po' il fatto che il sindaco di Macerata sia stato in qualche modo rimproverato verbalmente. In questo momento il sindaco di Macerata rappresenta la città e come tale abbiamo noi stessi chiesto che si costituisse parte civile per cui in questo momento le questioni politiche non c'entrano assolutamente, c'entra la città, c'entra Macerata ed è giusto che in questo processo la città sia presente. Qui noi siamo al di là mai in amicizia con la famiglia ma noi siamo convinti che comunque Osegale non è l'unico colpevole, Osegale non era solo perché se Osegale è solo non è da mettere in carcere ma bisogna studiargli sul cervello e fare una bella fiction americana perché neanche Anibal Lecter non arrivava a fare tutto ciò. Pamela era una figlia di Roma ma ha perso i suoi pezzi a Macerata e i cittadini di Macerata non stanno dimostrando né vicinanza né solidarietà, anzi stanno facendo pensare che Pamela è un problema perché porta i riflettori su alcune lobby e affari segreti di questa città. Siamo stati vicino alla famiglia Mastropietro partendo con la fiaccolata che siamo stati noi primi e quindi continueremo sempre a essere al loro fianco perché è come detto giustizia e la certezza delle pene e che venga fuori la verità quello che sia accaduto. Torniamo ora sulla vicenda che riguarda un'altra ragazza, si tratta appunto di Silvia Romano ci sono delle novità per quanto riguarda appunto la ragazza di 23 anni milanese rapita in Kenya perché la polizia keniana ha arrestato la moglie di uno dei tre sospetti rapitori della ragazza ed anche il suocero, lo hanno reso noto le autorità locali come riporta il Daily Nation la donna è stata fermata nel villaggio di Tarasa a Garsen nella contea di Tana River dopo essere stata intercettata al telefono con il marito i due saranno interrogati per ottenere maggiori informazioni sull'ubicazione della ragazza rapita e sulle sue condizioni. Rimozione e bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto agli archi il 20 gennaio scatta l'evacuazione per 12.000 persone zona rossa off limits per consentire i lavori chiusi per questa occasione alberghi, esercizi commerciali e la stazione Alessandra Napolitano. Bomba agli archi scatta il piano di evacuazione preparato dal comune di Ancona con la prefettura e gli artificieri dell'esercito domenica 20 gennaio dalle 5 alle 8 di mattina saranno evacuate circa 12.000 persone residenti nel raggio di 800 metri dal luogo del ritrovamento dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto il 17 ottobre scorso sulla linea ferroviaria vicino via Marconi. Le operazioni di bonifica e rimozione si svolgeranno dalle 9 alle 19. Sono 86 le vie che rientrano nella zona rossa che coinvolge Portoarchi, Corso Carlo Alberto Stazione, Piano San Lazzaro e Zona Regione. Entro le 8 dovranno essere rimossi tutti i veicoli dalle strade spostati pescherecci, cancellati gli arrivi delle navi con il loro carico di tir interdetta alla circolazione di veicoli e persone. Nella zona rossa saranno chiusi esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, chiese, moschee, cinema e associazioni. Sarà chiusa ed evacuata la stazione ferroviaria interrotta la circolazione dei treni. Auspicchiamo che molti cittadini possono autonomamente lasciare la loro zona rossa andando da amici, da parenti, quindi autonomamente possono uscire dalla zona rossa. Quelli che non riescono ad uscire, che rimarranno, hanno un numero verde che metteremo a disposizione. Sono quattro i punti di raccolta dove convergeranno nelle prime ore del mattino i cittadini che non possono spostarsi in autonomia, una ventina i mezzi di trasporto pubblico gratuiti che li accompagneranno ai centri di accoglienza allestiti nei palasport. Le persone con disabilità saranno invece accompagnate presso apposite strutture. Per informare le persone straniere che vivono nei quartieri interessati sarà preparato un volantino in più lingue. Tutto il personale della Polizia Municipale sarà in servizio. Abbiamo previsto già le chiusure totali nella circonferenza degli 800 metri, quindi chiusure fisiche con degli sbaramenti fisici. Attorno alla bomba sarà costruito un bunker con 400 metri cubi di sabbia. Una volta rimosso, l'ordigno bellico sarà fatto brillare in una cava. Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a Camerino per la cerimonia di inaugurazione del 683esimo anno accademico Unicam parla della necessità di accelerare la ricostruzione post-sisma. Vediamo. L'università come simbolo di una terra che può e deve rinascere, deve rimettersi in piedi dopo ciò che è accaduto due anni fa. Così il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a Camerino per la cerimonia di inaugurazione del 683esimo anno accademico Unicam. Ad accoglierlo in centro storico il Capo Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli e alcuni parlamentari del Sindaco Gianluca Pasqui. Tajani ha scelto di tornare nel comune con la più grande zona rossa del cratere sismico per esprimere ancora una volta solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Due miliardi i fondi stanziati dall'Europa per le aree del sisma ma il giro nella zona rossa ha fatto emergere i ritardi della ricostruzione legata da una burocrazia che non permette di dare risposte immediate. Ora bisogna sbloccare la burocrazia italiana che fa perdere troppo tempo soprattutto per quanto riguarda le decisioni legate al personale che deve contribuire alla ricostruzione. Non è soltanto una questione di soldi, è una questione di personale indispensabile a dare una mano. Bisogna che il governo faccia uno sforzo ulteriore. Si pensi meno a cose fatue e si pensi di più ai problemi dei cittadini. Come ha detto giustamente oggi il Presidente, bisogna avere dei valori, credere in quei valori, credere nei propri sogni, non abbandonarli mai. Poi da parte dell'Ateneo, da parte dei politici, degli enti, delle istituzioni ci deve essere la capacità di dare corpo a quei sogni, di mettere sostanza in quei sogni che sono meravigliosi. Io credo che qui si possa fare. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi a Ancona. Sentiamo il servizio di Linda Cittadini. Rilancio della logistica, la difesa della costa, sostegno alla pesca italiana ma anche al turismo, con un emendamento alla manovra proposto da Fratelli d'Italia per prorogare le concessioni dei balneari da 30 a 50 anni. Insomma, chiede un Ministero del Mare, la leader del partito, Giorgia Meloni, nell'incontro al mandracchio di Ancona. Qui c'è un progetto che riguarda il porto di Ancona per collegare Ancona a Civitavecchia, quindi costruire una dorsale orizzontale, quando immediatamente in Europa le dorsali si sviluppano sul piano verticale, che secondo me è un ottimo progetto che attualmente è bloccato. In vista dell'Europea in primavera? Vogliamo aprire a quelle realtà del centrodestra che sono in cerca di una casa e di una causa, mettiamola così. Siamo l'unico partito del centrodestra che ha ancora importanti margini di crescita. Se noi riusciamo, magari riusciremo anche a liberare Salvini dall'abbraccio innaturale con i Cinque Stelle. Dal palco di Ancona, Meloni saluta Paolo Diop, maceratese, originario del Senegal, recentemente nominato responsabile nazionale immigrazione del partito. Il miglior acquisto che Fratelli d'Italia potesse fare per il Black Friday, ha ironizzato il politico maceratese in un'intervista radiofonica, ha macerata in mattinata l'avvio del procedimento per innostante o segale accusato di aver ucciso e fatta a pezzi la diciottenne romana Pamela Mastropietro respinta alla richiesta di rito abbreviato. Sono contenta che i giudici abbiano scelto di non dare avanti il rito abbreviato. Ho detto ieri in occasione della giornata mondiale della violenza contro le donne che non ha molto senso celebrare queste giornate se poi la giustizia non fa il suo corso, il caso di Desiree, dove i giudici hanno preso questa decisione clamorosa di non riconoscere l'aggravante di stupro di gruppo per gli aguzzini di Desiree, perché Desiree sarebbe stata violentata da più di quattro persone, ma una alla volta. È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando per la selezione del socio privato per Aerdorica. L'importo dell'aumento di capitale sociale da parte dell'investitore privato è stato stimato non inferiore a 15 milioni di euro. Il bando è aperto ai soggetti con capitale sociale non inferiore a 200 mila euro e l'offerta deve contenere una fideiussione di 600 mila euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13 del 4 gennaio 2019. Ovviamente vi terremo aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi in merito alla questione. Cambiamo pagina. 3.000 sindaci di cui oltre 300 marchigiani all'incontro a Roma con poste italiane. Presenti il Premier Conte e i ministri Salvini e Buongiorno. L'obiettivo era promuovere un dialogo diretto tra poste italiane e del territorio. Soddisfatto il presidente di Anci Marche, coordinatore dei presidenti delle Anci regionali, Maurizio Mangialardi, che dichiara il presidente Conte e i due ministri Salvini e Buongiorno si sono impegnati in maniera precisa e molto positiva a non chiudere nessun ufficio postale nei piccoli comuni, potenziando il servizio laddove fosse stato soppresso con l'apertura anche di sportelli ATM. E questa era la nostra ultima notizia. Io come sempre vi ricordo che potete trovare tutte le news aggiornate direttamente sul nostro portale e sui nostri social. Vi lascio come sempre alla rubrica Marche Flash e poi alle news sportive con il TG Sport. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima edizione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.